Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News Grazie a tutti i nostri spettatori e aiutori attraverso le migliori esperti. Grazie a tutti i nostri spettatori e aiutori attraverso le migliori esperti. Io sono un grande fan di Cruciani e della Zanzara e ha sollevato una questione che lui solleva spesso però in maniera ancora più personale proprio perché non è stata filtrata dalla sua radio bensì proprio puramente da sé. Cioè questa cosa che non devi... cioè non è che se fai qualcosa devi dare un buon messaggio, devi dare un esempio. Non importa quando fai televisione, quando fai radio, quando fai qualcosa, quando ti esprimi ciò che conta è intrattenere. Se sei in televisione ad esempio, se stai facendo un programma di intrattenimento, questo è il concetto. Poi attraverso l'intrattenimento puoi dire ma non bisogna educare. Cioè Cruciani dice tu sei un malato che ti senti che devi educare. La cosa a me piace, mi ha fatto riflettere, perché in verità Cruciani proprio nel suo intrattenimento puro dà tanti spunti di riflessione. In qualche modo educa, senza educare. Non gli interessa. Non è che io seguo l'esempio di Cruciani o seguo l'esempio di Parenzo o degli ascoltatori o faccio l'esatto opposto. È che io semplicemente, osservando tutto questo, poi faccio un mio pensiero critico sulla cosa dopo che ci ho riso su. E questo può essere molto utile. Quindi il discorso, secondo me, ridà sulla verità. Cioè se tu riesci ad essere vero, la tua verità educa in qualche modo. Ma le persone, alla fine, lo sanno loro che vanno cercando. Cioè se una persona ha bisogno di stimolare una certa indole in quel periodo, magari ha bisogno di incazzarsi, e allora ha bisogno di vedere un cattivo esempio che alza la voce, vuole farlo anche lui. Se invece una persona ha bisogno di vivere un dramma, ad esempio, sta vivendo una cosa, vede la stessa scena, vede l'uomo che si incazza e dà la rabbia, dalla sua prospettiva drammatica può arrivare a provare compassione. Questo è il concetto. L'importante è essere veri. E poi, ragazzi, educare, educare. Il mondo viene buttato. Cioè noi siamo buttati nel mondo. E quello che abbiamo in cambio è che ognuno se ne sbatte. Il mondo ti manda a fanculo ogni giorno, non stagli a pensare, oddio, potrei ferire la sensibilità di qualcuno, sto educando. E noi dobbiamo essere sempre più simili al mondo, perché il fare retorica, che a me è una cosa che piace molto, lo faccio, continuo a farlo, però fare retorica... Io sono uno di quelle persone che ce l'ha sta roba che deve aiutare gli altri, no? Recentemente ho fatto un laboratorio gratuito a mie spese, ho portato dei ragazzi in scena su un palco, ho regalato loro un'emozione unica. Faccio attività proprio verso il prossimo, sia nel lavoro e sia fuori. Mi son buttato in queste cose ultimamente, non perché sono un galantuomo, un signore, semplicemente sopravvivo a me stesso e ho tentato questa via, no? Come fare l'avvolontariato, ma lo faccio a mio modo. Ecco, cerco di fare delle cose belle, cerco di farle accadere. E questo ti dà anche un senso di responsabilità, però io che posso fare per gli altri concretamente? Io posso dare il mio esempio, posso dire la mia opinione, ma io devo educare gli altri. Ma io forse educo di più gli altri se mostro chi sono al 100%, comprese le mie battaglie. Quindi io me la sento addosso questa cosa del dover in qualche modo combattere per la società, però innanzitutto quanto puoi cambiare le cose? Questo io lo so bene. Ma perché le persone vanno per la loro strada. Cioè se hai una persona che ha bisogno di lamentarsi, tu non risuovvi il problema togliendogli le cose di cui si lamenta. Tu lo uccidi così. Allora dagli un'altra persona che si lamenta, come lui. Stiamo educando qualcuno? No. Però due persone si stanno sfogando. E magari buttando via tutta la propria rabbia, qualcuno di loro due educherà qualcuno, educherà se stesso, ecco, educherà se stesso. Alla disciplina. Non lo so. Da qualunque cosa. Perché dalle scelte derivano conseguenze. Io certo ci penserei un attimo. Io lo sentirei addosso, il senso di responsabilità. Ma non ha senso censurarsi. Questo è il discorso. La verità, sempre lì. La verità può essere anche che io sto fuggendo la verità, ma che sia chiaro, che sia palese. Non è chiara la mia posizione al riguardo. Mi ha scosso molto questa cosa. Una volta un mio amico ha visto, una persona che conosco, ha visto la lista dei titoli di alcuni episodi del monologato. Da quel periodo, tipo due mesi fa, stavo facendo roba tutta sociale. Quindi tutti i titoloni, no? Andare via da casa, sentirsi un fallito. Una roba comunque, no? Per i giovani. Mi ha detto, minchia, figlio, non so se me la sento di ascoltare sta roba. È pesante. E io dicevo, cazzo sì. Manco io. A quel punto l'ho rivisto e ho detto, manco io ci cliccherei qua. Poi sono gli episodi più belli che ho fatto. Alcuni me l'hanno detto. Però noi ci arriviamo a capire che le persone vanno dove vanno. Magari un giorno quel titolo lo cliccherà. Non è fatto da me, magari. Ma questo per dire che io potrei scegliere di stravolgere completamente tutto quello che faccio e concentrarmi su una forma di intrattenimento più leggera, chissà quanti numeri in più farei. La verità è che non mi riesce. La verità è che sì, lo faccio il cazzone. Lo faccio tantissimo. Sparo un sacco di cazzate. A volte insulto persone. È il mio personaggio, diciamo, no? Quello è lui. Io lo conosco bene. Però anche lì cerco sempre di trovare un appiglio, idealistico, cose. A volte potrei tornare come nel 2020. Prendo, mando affanculo a destra a manca. Facciamo pure un po' di trash. Non lo so, non lo escludo. È tutto nel calderone. Dipende come mi sento. Ecco, è come mi sento ora la mia verità. E cambia sempre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.